E' un anno di profonda e seria riflessione, gli organi istituzionali dell'ente hanno preso una decisione, che è la seguente, obiettivi medio-lunghi e obiettivi più immediati. Gli obiettivi medio-lunghi comportano la creazione di un grande, nuovo, modernissimo, il più efficiente e il più bello dei collegi di Perugia nell'attuale sede di Via Antinori e sarà un grande collegio per 250-300 ospiti che sostituirà l'attuale collegio maschile. Secondo obiettivo di portata medio-lunga, un centro formativo nel sud Italia, perché noi abbiamo molti contribuenti anche nel sud del nostro paese, medici, veterinari e farmacisti, che è giusto che vedano soddisfatte le loro esigenze in territori del paese più vicini loro. Ma nel frattempo noi non possiamo stare con le mani in mano, questi obiettivi sono di lunga portata, questi obiettivi esigono dei fondi, dei cambiamenti e questi fondi noi potremo ottenerli soltanto valorizzando il patrimonio immobiliare che in parte abbiamo cominciato a mettere in vendita e che sarà affidato attraverso una normale gara a un'istituzione la quale lo commercializzi. Non abbiamo messo in vendita tutto il nostro patrimonio, soltanto una parte del nostro patrimonio, quella che sta sul mercato con dei prezzi significativi, perché noi vogliamo vendere il patrimonio, non vogliamo svenderlo. L'entità del patrimonio che desideriamo mettere attualmente sul mercato è di circa 10-12 milioni di euro. Nel frattempo, dicevo, però non possiamo stare con le mani in mano e abbiamo deciso una ristrutturazione dei collegi di Perugia, diversificando la offerta in questo territorio. Chiudere la presenza di Montebello, dove ci sono alcune casette che sono abitate da una trentina di ospiti e concentrare la nostra presenza nei due collegi, attribuendo all'attuale collegio maschile il permanere di tutta quella quantità di servizi che storicamente sono stati offerti, la mensa, la lavanderia, il guardaroba e tutto quello che nella storia si è accumulato nel tempo con un'offerta di grande rivevo. Facendo invece nell'attuale collegio femminile, dell'attuale collegio femminile, un centro formativo più snello, in cui gli studenti abitano, però non hanno il servizio di ristorazione. Ma naturalmente questo passaggio sarà graduale, perché gli studenti che optano per il centro formativo attualmente femminile, che cosa fanno? Possono servirsi in parte dei servizi che sono, per esempio, il servizio mensa nell'attuale collegio maschile e così via. Chi ci andrà in questi due tipi di collegi, in quello servito con più servizi e in quello invece centro formativo più snello? Ci andranno le persone che desiderano andarci, naturalmente prima gli assistiti, poi i paganti. E saranno maschi e femmine, naturalmente generi di tipo diverso che possono scegliere l'una o l'altro tipo di soluzione. Noi pensiamo già in questo modo, senza entrare ora nei particolari, di aumentare la qualità dell'offerta logistica e di accrescere fortemente, voglio dire, l'impulso formativo che noi riteniamo essere indispensabile e debba essere utilizzato all'interno di queste strutture. Sì, in questo momento di crisi generale noi abbiamo ritenuto indispensabile iniziare, visto che la legge ce lo imponeva sostanzialmente, a dare un sostegno alle nostre famiglie, ai nostri colleghi che pur avendo situazioni di lavoro evidentemente stabili, possono subire delle situazioni di ricriticità legate a condizioni personali, familiari, patologie o altri problemi che ne impediscono il reddito, quindi noi integreremo con un bando che potrà coprire un fabbisogno di queste famiglie con 500 mila euro che abbiamo accantonato e altri 700 mila euro che abbiamo messo a disposizione delle famiglie e degli orfani per poter dare una forma di assistenza più concreta, più sostanziale in questo momento di difficoltà indubbiamente che in cui sta passando il Paese e evidentemente con una buona gestione del nostro bilancio siamo riusciti ancora a trovare delle ulteriori risorse.